Ciao ragazzi, benvenuti ben trovati sul mio canale, io sono Magrus, ritorniamo sempre qui con Batman 3, il quinto episodio, quello finale, completamente, sempre e solo, in italiano. Trovate naturalmente nel box info la maniera di rendere questo gioco soltanto per PC, ripeto, soltanto per PC, in italiano. Quindi non lo acquistate per console, Xbox One o PS4, perché non lo potete tradurre in italiano, perché il gioco non è in italiano. Adesso avete cominciato il video, come se volete, mi piace in su un bel commento, un bel mi piace. Detto questo, andiamo ad acchiappare Lady Arkham. Ops. Vecchie visite, eh. Ciao. Non così però, porca miseria, non pensavo che ci portasse da Alfred in questo modo, vabbè. Che c'è? Aia. Sembrano tombe, no? Vicky! Diciamo che con i capelli lunghi eri più carini, hai fatto vedere, hai già perso. Ma che abbi sembra d'aiuto, vai. Hai già perduto Vicky. Vieni e si rinforzi. Ma che c'è Batman? Si è fatto male per la... Vai, vai. Il butler deve morire, Batman. Pagamento per Thomas Winston. Ma che c'è la mia famiglia, quindi io prendo i suoi sottos. Se tu realmente vuoi salvare il butler, portateci a me Bruce Wayne. Se qualcuno può trovare, è tu. Il probabilmente sta cattando dietro di una 12-inch thick wall e una 100 bodyguards, right now. Perché dovrei confiere a che tu guardi la tua scuola? Perché... Ma che masca è fuori, now, Batman. Perchè ricerci? Solo per un vecchio, guarda che questo è Alfred, non è solo un vecchio Che cavolo sta succedendo? Era un pelo eh Batman, te lo volevo dire C'è un po' di me Sai, Batman, non ho capito C'è un po' di me? Ho fatto delle cose migliori per Gotham Falcone e Hill devono morire Se lo faccio te un po' di me Stiamo combattendo la stessa combina, Batman Vedete questo? Chiamo la stessa cosa Noi siamo nulla, Vicky Lavoro per salvare le vie Eh, diglielo, Batman Eh, a lei piacciono le bevande e fredde Attenzione, qua c'è qualche altra cappola Oh, chiaro Batman, spero per te che stai facendo la strada giusta eh Perchè Eh, ti fa male il cuore No, il cuore sta, si il cuore sta a sinistra quindi Oh, eccola Eh, ma siamo ridotti abbastanza male Mi piaceva più questa parte Perchè 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 Guarda se ne scappa sempre, che pale La riusciamo a beccare a questa, questa è velocissima No, è scappata un'altra volta Però sto costume è più bello eh Sarà vecchio ma è bello, bella sta È Gesù eh No, è mangelo Secondo me è più bella questa tuta qua È vero che magari C'ha meno gadget però Oh, Alfred T'hanno messo come È vero, Alfred Tu... 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 Tu veni... Tu veni per me After... What you said I knew you'd come The man... The man I... I made you... Just hold on, Alfred Did you see where she went? She just... Dis... Disappeared I'm getting you out of here Above you I'll be the one I'll be the one Oh... Interessante come si parla So familiar Alfred Such concern For someone you've never met before Concern I don't have for you Huh Sounds like deflection to me There's more here than you're telling Vabbè, ormai hai capito, dai. Vai, io me lo tolgo. Hai visto chi siamo? Adesso ho capito. Come Batman, tu puoi imparare i sbagliati, i sbagliati, proprio come il tuo padre. Una vera, Wayne. Non c'è nulla che eroica con te! Non posso cambiare cosa che succedeva nel passato. Ti avrei chiesto per te, Vicky. Non c'è nessuno che dovrebbe soffrire come hai fatto. Non c'è nessuno che ho sofferto. Ma ti avrai. Ti mostrerò cosa Thomas Wayne ha fatto a me, a mia famiglia! Aia! La vogliamo menare o non la vogliamo menare, Bruce? Che dici? Con una pietra, ma dai! E va manco! Vai! Vai! Ok! Ok! Vai! Guarda che combinazione di tasti! Guarda che se ne stai prendendo alla grande, te lo voglio dire! Ma ha funzionato questo! Attenzione, Bruce! Ehi, se ne sta cadendo qui il soffitto! Aia! Ok! Eh, però noi stiamo prendendo! Dai, Bruce! Dai! Eh, che palle! Ok! Forse ce l'abbiamo fatta! Mazzà che mossa! Ancora! 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 Ho stato il suggerimento mezzo semi-interrato, te lo voglio dire! Ok! Grande! Aspetta! Ok! Ok! Ammazza quanti cazzotti! Ok! Credo che l'abbiamo presa prima noi eh! E che cavolo però! Ancora è morta! Ok! Ce l'ho fatta eh! Ma quanta roba sta cadendo! Oh! L'arma! Morirai con la tua stessa arma? No! Credo che dobbiamo essere più veloci! Ok! Sì! Ma non mi pare che ce l'ho anche la Hicks! E infatti... Non ho capito bene che coi dovevamo premere... Ok! Ok! Ma mi pare che ce l'ho anche la Hicks! Non ho capito bene che coi dovevamo premere! Non dovrai morire! I pezzi della linea d'acqua finiscono qui! Forse è morta Metterei la maschera Prenderei Alfred e scapperei La maschera Oh 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 Mi sa che sei in trappola Oh Finalmente è morta Io direi di scappare Fare anche un po' più veloce Che figata Dopo la settimana Oh Se il pubblico sapeva la parte È meglio che non lo so Qualcuno avrebbe esgamato Qualcuno da Miss Kyle? Non ho aspettato di ascoltare da lei Qualcuno che sta succedendo Ah Qualcuno di sua identità Forse per la sua Ma Ma È un problema È un problema Vabbè dai che contento che Alfred è tornato, eh ci credo stiamo schiattando Sì sempre pronti, ha Alfred, alla pace E chi sarà scappato secondo voi? Ce n'era uno che era in trappola Cosa? come tu. Let Gotham see who Bruce Wayne truly is and let them know what you plan to do for his future. This could be a fresh start. For you and for this city. Though in Gotham the only figure that can make as much impact as a Wayne is Batman. You've helped this city tremendously both as Bruce Wayne and Batman. And that person whether he dons a cape or not is someone I'm proud of and honored to call my friend. So what do you intend to do about tonight? Well... Lucius has yet to invent a suit that will let Bruce Wayne have been in the same place at once. It would be a mess. It's unfortunate. I suppose you must decide whose appearance will be more valuable. As Bruce you can help prepare the damage done to your name get the public support so that you can change things from the top down. but Batman is a symbol of justice and strength. Maybe in these dark times that is truly what Gotham needs the most. Ok, lo qui ci troviamo davanti a un bel dilemma. This one is truly the mask. Partecipiamo come Batman o partecipiamo come Bruce? Raga, per... personalmente andiamo come Batman non avrebbe senso in questo caso andare come Bruce. Dai! will be in attendance. You'll make quite the impression Gordon will be grateful. andiamo come Batman e quindi andremo come Batman ma sono curioso di vedere la gente come reagirà. I'm curious to see the police commissioner James Gordon who will address the city for the first time in the wake of the terrorist attacks perpetrated by Lady Arkham. And I, as acting police commissioner, Commissioner Gordon that sounds right Perchè non suona bene? Perchè non lo sappia. C'è una raiata di un'addizione. Qu'è un'està un'estima del teccolo. Qu'è un'estima e un'estima del più gratis. C'è una cosa che ti senti? Voi che non sei un'unico di c'è. Ma io ci senti un'unico di un'unico di gothame. Mi a parlare di gothame, non so quello che vuoi. Mamma mia! Come sto preoccupato il commissario! E dai! E allora! Stai parlando da solo eh! Infatti! E io ho visto anche i cittadini di questa comunità bandi insieme a combattere queste threati. Uno di questi cittadini è Batman. Il mi ha detto che io ero la città bisogna. Io voglio vivere a questo, ma non posso farlo solo. Io ho bisogno di tutti voi, anche. Let Gotham essere una città di città. Uniti, strong e sperimentali. Ma non salvavamo il commissario. Porca miseria! Meno male che c'era Batman. Just minutes ago, acting commissioner James Gordon Delivered a rousing speech that turned into a shocking assassination attempt on his life. Batman made short work of the assassin. E' molto difficile. Non avevo dubbi ragazzi, non avevo dubbi che il prossimo sarebbe stato lui. Spero naturalmente. Città della luce. Credo che sia finita. Vabbè, giustamente di solito normalmente ci danno anche un'anticipazione per il prossimo. Anche se nel quarto episodio non c'è noto nessun'anticipazione del quinto episodio. E' stata una serie fantastica, lunga, intensa. Almeno per pochi. Perché ho visto che magari rispetto ad altri video non era tanto seguita. Però mi faceva piacere portarvela. Soprattutto per il grande lavoro che hanno fatto per questo gioco, per questa traduzione. Ma soprattutto per il fatto che comunque si tratta di Batman. A me comunque piace moltissimo Batman. Del resto stiamo facendo anche Lego Batman. Il primo, quello vecchissimo. Vabbè, non fa niente. Vi faccio vedere un pochettino le scelte che noi abbiamo fatto. Su alcune scelte ci troviamo veramente tipo alla grande. Mentre invece su alcune scelte tipo per esempio qua siamo andati già abbastanza bene. Qua invece no, siamo andati contro. Volevo vedere su quello dove in pratica... Non mi ricordo dove. La scelta, non so se ci sta praticamente. Dove potevamo scegliere in pratica... Dove toglievamo la maschera praticamente. Qua non ho capito in pratica che cos'è. Vabbè, brutale. Ok, continuiamo. Ok. Sono curioso perché vedete se ci fanno un'anticipazione verso qualcosa. No, nessuna anticipazione. Pensavo che tipo ci avessero fatto tipo un'anticipazione sul gioco nuovo che poi tra l'altro già è uscito. E che ve lo dico a fare è completamente in inglese. E spero vivamente che RPG Italia si dedicherà alla traduzione anche di quest'ultimo episodio di Batman della Terrazione che è uscito. Naturalmente come al saluto vi invito come sempre a mettere un bel like al su, un bel commento, un bel mi piace, un mi piace per quelli che mi hanno seguito per questa serie. Non ci vediamo, come al saluto, sempre al prossimo video e bye bye.